buongiorno ragazzi benvenuti in questo video le carte sono già pronte come vedete quindi studenti mettete in pausa e se ne avete voglia scrivete nei commenti la vostra interpretazione ma cominciamo e vediamo che abbiamo la carta della forza abbiamo il 6 un 6 di bastoni molto sexy un 7 di denari faticosissimo è un wow una carta finale che è un cavaliere di bastoni spettacolare bello 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 con una forte energia femminile che in questo periodo non guasta mai questa lettura è valida per oggi per i giorni intorno ad oggi e comunque per il momento in cui vi capiterà sotto agli occhi quindi adesso iniziamo con la forza ciò significa che abbiamo abbiamo forse imparato a controllare un po le nostre emozioni meglio del passato io direi proprio di sì siamo siamo stati per un certo periodo di tempo come dei bambini in pre dalle emozioni che non sapevano controllarle e che venivano guidati dalle emozioni quindi un po una sorta ecco immaginate se qualcuno fosse capace di creare in noi artificialmente delle emozioni rendetevi conto ragazzi di quanto noi siamo vittime delle nostre emozioni e di quanto le nostre azioni dipendono dalle emozioni quindi cosa accade se abbiamo un partner manipolatore che gioca sulle emozioni ebbene accade un disastro perché arrivereste la maggior parte di noi arriva al punto da autodistruggersi pur di stare con un partner pur di assecondare un partner pur di non perdere quel partner che usa le nostre emozioni contro di noi prima le crea e poi le usa ma va bene questa è stata una digressione perché so che molte persone che mi ascoltano hanno problematiche del genere e dato che il motivo per cui questi video sono qui non è solamente vendere quello che faccio ma è anche dare una mano concreta vi dico ogni tanto vi do questi input che a furia di sentirveli ripetere vi programmeranno ecco io credo che chi mi guarda da tanto tempo si sta riprogrammando perché mi arrivano dei bellissimi feedback da alcuni di voi allora torniamo a noi noi abbiamo imparato a gestire delle emozioni piuttosto che a farci trascinare dalle emozioni ma questa cosa purtroppo vale solo in certi momenti non siamo ancora bravissimi non siamo ancora bravissimi e quindi ecco che se un'emozione magari è leggera noi sì ne abbiamo il controllo e riusciamo a controllarla ma se si tratta di cose grandi no siamo ancora lì a sbraitare quando ci arrabbiamo a scappare quando abbiamo paura eccetera eccetera ora in questo momento in questo momento noi possiamo vedere la nostra capacità di gestire la la parte interiore di noi che corrisponde al corpo astrale che è il corpo emotivo diciamo a livello di corpi energetici noi abbiamo diversi corpi energetici ed ecco che vediamo come noi noi in realtà non siamo il bambino noi siamo noi questo noi siamo questa donna questa donna che aiuta il proprio bambino interiore a crescere e a imparare a gestire le emozioni i gatti gli animali gli animali hanno una determinata simbologia anche oniricamente parlando quindi nei nostri sogni quando sogniamo un animale è molto importante stare attenti a cosa fa quell'animale come ci come ci come si comporta e come si rivolge a noi come noi ci rivolgiamo all'animale le sensazioni che abbiamo perché gli animali rappresentano sempre delle parti molto istintive di noi e in base al tipo di animale noi potremmo anche andare a capire e a tradurre tra virgolette il significato più specifico del subconscio in questo caso noi abbiamo una donna adulta che siamo noi uomo o donna che voi siate non importa ragazzi perché quando voi lavorate con il vostro bambino interiore è importantissimo che usiate il vostro lato femminile quello più sensibile perché per parlare con un bambino bisogna essere sensibili per aiutare un bambino a crescere e per educarlo senza traumi bisogna essere sensibile e siccome noi siamo pieni di traumi perché perché purtroppo l'infanzia su questo pianeta è traumatizzante adesso quando noi facciamo un lavoro di crescita personale e decidiamo di far crescere il nostro bambino interiore dobbiamo stare attenti a farlo bene quindi ecco che ci siamo noi noi e la nostra magia interiore un gattino è un gattino è una roba piccola è un animaletto piccolo sì stiamo imparando quindi a controllare qualcosina non siamo proprio bravissimi ecco se ci facciamo prendere da da un tornado di rabbia non ci tratteniamo ok però piano piano stiamo avanzando e infatti la carta ci dice di guardare avanti proprio perché comunque stiamo facendo un buon lavoro e questo lo dimostra l'altra carta è un 6 di bastoni un 6 di bastoni molto provocante perché si tratta proprio di un uomo che va verso una donna super disponibile cioè non solo la donna è disponibile ma sembra proprio che stia lì ad aspettare solo quello il nostro uomo sembra essere un allevatore abbiamo qui delle caprette e forse è un allevatore di forte ventura con le caprette abbiamo il coniglietto e il pavone o comunque un uno di questi uccelli stile colombe pavoni è un vaso e abbiamo un vaso che conserva qualcosa lei ha un cesto di fiori e ragazzi studenti questi sono tutti i dettagli che a voi potrebbero dire qualcosa in questa carta noi vediamo che in effetti stiamo andando avanti perché stiamo guardando avanti e questa nostra sicurezza questo nostro acquisire sicurezza in noi stessi è proprio ciò che ci permette di vivere le relazioni con l'altro sesso o con lo stesso sesso in modo più sicuro in modo più diretto un 6 di bastoni non è uno che sta lì a corteggiare per mesi un 6 di bastoni scambia quattro chiacchiere conosce l'altra persona esce con questa persona e poi riconosce quando il momento giusto per farsi avanti non ha paura ha rimosso le sue paure dal cammino ha imparato a controllarsi ha imparato ad essere sensibile sia con se stesso che con gli altri quindi ha imparato ad ascoltare ed ecco che ascoltare le energie altrui è il metodo migliore sempre per sapere per sapere come comportarsi nei confronti degli altri io un po nel corso di telepsichia ne parlo perché comunque noi siamo ricettivi ai pensieri degli altri bisogna solamente capire come in che modo e soprattutto bisogna imparare a distinguere le nostre i nostri stessi pensieri da quelli che arrivano da fuori da quelli degli altri ma sono dei meccanismi comunque che si imparano con il tempo basta conoscere le regolette noi qui in questo caso davvero sappiamo come approcciarci a qualcuno e potremo anche proprio in questi giorni decidere di farlo o qualcuno deciderà di farlo con noi quindi o noi diventeremo come si dice corteggiatori di qualcuno oppure un corteggiatore sicuramente si farà avanti e lo farà con una sicurezza che è difficile dirvi no il punto però qual è il punto però qual è innanzitutto che questa persona potrebbe per esempio non per tutti ma per qualcuno di voi potrebbe essere fisicamente lontana e quindi potrebbe aver bisogno di spostarsi per raggiungervi oppure voi se siete voi quelli che devono andare da qualcuno avete bisogno di spostarvi di fare strada non è una cosa che non è non si tratta di un qualcosa che accadrà immediatamente e rapidamente ma si tratta di un qualcosa che ha bisogno comunque di un po di tempo per maturare il 7 di denari ci dice che è un lavoro duro quindi se davvero noi siamo interessati a questa persona o questa persona è interessata a noi sicuramente dovremo lavorare duro per appunto permettere al rapporto di arrivare a un livello di conoscenza sufficiente ma quando arriverà quel livello di conoscenza sufficiente non ci faremo scappare sicuramente l'occasione non staremo lì a portarcela per la trascinarla per le lunghe quindi qui c'è una decisione che viene presa quindi c'è l'intenzione di fare una mossa ben precisa e tra l'altro questa mossa ben precisa termina proprio con un cavaliere di bastoni che è veramente super saggio cioè questo non è un normale cavaliere di bastoni questa è una sacerdotessa travestita da cavaliere di bastoni questa è una papessa perché guardate la carta guardate il potere che viene trasmesso da questa carta non so se lo notate ma questo anello attorno alla vita della donna è lo zodiaco rappresenta i segni dello zodiaco quindi questa è una donna che ha determinate conoscenze questa questi siamo noi che con le nostre conoscenze con la nostra saggezza con tutto quello che abbiamo acquisito nell'arco della nostra vita agiamo sapendo perfettamente quello che facciamo oppure è l'altro che lo fa con noi cioè tanto per capirci questa è una di quelle situazioni in cui io prima di fare una telefonata a una persona che non sento da tempo controllo dove sta mercurio controllo dove sta saturno controllo dove sta giove controllo controllo mi faccio pure una bella lettura di carte controllo come potrebbe andare chiedo magari parere pure all'amica che si occupa di itching e quindi mi faccio fare anche faccio una consulenza di itching per vedere quali consigli riesce a darmi per ecco questa è una persona questo è un cavaliere che prima di andare studia questo è un cavaliere anche anzi non ha bisogno di studiare perché ha già la conoscenza nelle sue mani guardate le mani qui c'è una coppa nella mano destra qui c'è un fiore di loto nella mano sinistra la donna ha delle ali cioè questa è una donna che ha sviluppato i suoi poteri il suo potere personale e i suoi talenti la sua conoscenza di solito i cavalieri di bastoni sono semplicemente personaggi che vogliono venire da noi solo per una cosa perché il bastone rappresenta quello il desiderio sessuale quindi quando un cavaliere di bastoni molto grezzo si avvicina a noi è per quello è proprio grezzo nel modo ma questo cavaliere di bastoni altro che grezzo sia che sia che sia qualcun altro con voi io gli faccio i complimenti perché è un cavaliere che sa anche come cavalcare ora andiamo a vedere prendiamo una carta oracolare e vediamo che cosa altro possiamo comprendere da questa stesa di oggi e intanto ragazzi io vi ricordo che se volete una sessione privata potete semplicemente inviare un'email e vi spiegherà tutto la mia assistente o andare sul sito e prenotare mentre mentre se volete informazioni sui videocorsi o su come diventare studenti mandate un messaggio whatsapp che è molto più semplice allora abbiamo un abbiamo la storia infinita e beh ragazzi la storia infinita questa è una roba che o va già avanti da un po e quindi noi ci portiamo avanti certe situazioni da un po di tempo oppure tenetevi forte perché se sta cominciando adesso ve la porterete avanti all'infinito cioè questa è roba karmica questa è roba super karmica perché infinito l'anima è infinita l'unico corpo energetico di dei nostri corpi energetici noi abbiamo diversi corpi energetici tutto spiegato nel videocorso di psicologia karmica ed energetica di questi corpi energetici dopo la morte noi alcuni li perdiamo non ce li portiamo dietro noi perdiamo il corpo mentale che è quello che mantiene i ricordi noi perdiamo il corpo eterico che è quello che dà vita al corpo fisico quello che il cosiddetto prana potremmo per tradurre in modo molto semplificato noi perdiamo il corpo astrale che è quello delle emozioni quindi nella vita successiva ci dimentichiamo le emozioni che abbiamo provato nell'altra quello che rimane con noi è ciò che si chiama corpo causale insieme a vabbè ve lo dico insieme all'atomo buddico sono argomenti un po un po addentrati nel mondo dell'esoterismo e in particolare della teologia della teosofia o dell'antroposofia in italia abbiamo queste fonti che sono fantastiche e la storia infinita è perché la nostra anima una parte del nostro corpo energetico che è precisamente appunto il corpo causale aveva già avuto a che fare con queste esperienze con questa persona se non è ed è molto probabile che sia così potrebbero potremmo noi anche avere avuto a che fare con questa persona in questa vita e allora va bene ma se noi abbiamo se noi stiamo incontrando questa persona adesso per la prima volta in questi giorni o in questo periodo per la prima volta ciò non significa che ciò ciò significa scusate mi sto facendo un po di confusione ciò significa che in passato in vite precedenti noi avevamo già incontrato questa persona adesso la stiamo rincontrando sarà un evento sarà un incontro molto importante per noi che andrà avanti all'infinito quindi forse incontrando questa persona adesso non ce ne libereremo tanto facilmente ad ogni modo mi scriverete nei commenti esattamente che cosa sta accadendo se ne avete voglia e io spero come sempre di esservi stata utile a gestire al meglio la vostra giornata vi mando un saluto e noi ci vediamo domani